Bene, grazie, grazie della presentazione, grazie anche delle sollecitazioni su cui io e Stefano discutiamo continuamente, la passione della teoria ci accomuna. Bene, io confesso sin da ora che il titolo proposto che vedete promette molto ma che la successiva trattazione manterrà, ahimè, troppo poco. Tuttavia ho voluto conservare il riferimento alla non deissi, che vedete, per affrontare la questione su un piano immediatamente narratologico, il più possibile narratologico, cioè e solo tangenzialmente, possiamo dire linguistico, anche se poi linguistica giocherà ovviamente un ruolo. Dunque, il filone principale degli studi narratologici a cui devo fare riferimento è quello che si diparte dalle idee di Chete Hamburger, ne abbiamo già chiaramente parlato ieri, riprese però, riprese nel tempo da Franz Kastanzel, Dorit Korn, Anne Benfield e Monica Fudernick e che in anni più recenti, senza però andare incontro, mi sembra, particolari innovazioni, è stato discusso da altri, ad esempio da Per Kroghansen, con specifico riferimento però al racconto in prima persona al presente. In questo ambito si intendono come non deittici quei tempi verbali, in vari modi assimilabili al preterito epico di Hamburger, vale a dire un tempo passato che annulla l'uso naturale e comunicativo della lingua, sostituendo all'io delle enunciazioni abituali qualcosa come un se. Sto riprendendo la definizione di Benfield, rispetto al quale la natura di anteriorità del verbo, al passato, si trasforma in un presente, un presente del lettore, lettoriale. E non è il caso, ovviamente, che io resumo nel dettaglio le posizioni di Hamburger, che io tendo a frequentare, come ho già detto, nella declinazione proposta da Benfield. Voglio solo insistere sul fatto che questa Deissi Zero è altra cosa, è altra cosa, dalla non Deissi, o pseudo Deissi, di cui parlano, ovviamente, i linguisti, in Italia in particolare, Pier Marco Bertinetto. Basti pensare che linguistica, il prefetto semplice italiano, passato remoto, e il tempo d'etico quasi per eccellenza, laddove è evidente che se lo interpretiamo attraverso il filtro del preterito epico di Hamburger, le considerazioni sono necessariamente di natura opposta. e taccio, guardo Gianni Maffei, taccio dell'auristo di Banvenist, per non complicare troppo un quadro, che peraltro, suppongo, largamente noto. La posizione di Hamburger è andata incontro a numerose interpretazioni, qui sta al punto, e precisazioni in particolare da parte di Stanzel e Fludernick, che hanno dichiarato non deittici solo gli annunciati narrativi in situazione narrativa figurale, o anche in situazione narrativa in prima persona, ma con un forte sbilanciamento nei confronti del sé narrato, dell'experiencing self, o chiamiamolo prima persona consonante, seguendo Dorit Cohn, prima persona consonante. Nel momento in cui il narratore omeodiegetico tratta la propria figura come istanza autonoma, può verificarsi qualcosa di tipicamente non deittico. Ma è altrettanto noto che le cose, l'abbiamo già visto ieri, si complicano maledettamente quando entra in gioco al tempo presente, il cui uso narrativo è quindi aspettualmente perfettivo, e qui c'è già da discutere, sta dilagando con sempre maggior successo. In effetti Castellana ieri ce l'ha mostrato molti esempi, anche se in una prospettiva diversa dalla mia, costringendoci a introdurre una serie di distinzioni non agevoli. La più ovvia è quella che, come appunto ha fatto Fludernick, riprendendo idee di Dorit Cohn, cerca di individuare un rapporto fra preterito epico e presente, chiamiamolo finzionale, ipotizzando l'esistenza di un presente epico, attivo in particolare, come detto, nella situazione narrativa figurale. Vabbè, lo so, vi sta venendo mal di testa, e quindi cerchiamo di vedere. Tutto sommato, la situazione è molto semplice, sto riprendendo le definizioni di un saggio importante della Fludernick, vedete che di fatto possiamo replicare a livello di presente, quindi c'è un presente epico, chiamiamolo non deitico, e un presente narrativo deitico, possiamo replicare quanto accade a livello di una temporalità, diciamo, tradizionale, quella del preterito epico. preterito epico funziona, secondo Fludernick, in figuralità, in situazione narrativa figurale, o in prima persona consonante, mentre dove c'è il narratore, chiamiamolo onnisciente o autoriale, o in prima persona dissonante, c'è un altro tipo di passato, che lei chiama passato, past tense narrativo, che sarebbe deitico. Questo è il riferimento, questa è la sintesi che Fludernick ha, come dire, proposto, su cui ovviamente si discuterà, si può discutere molto, però purtroppo le cose sono più complicate, molto più sfunate, soprattutto quando è in gioco la prima persona, quando è in gioco la prima persona al presente. Sappiamo bene quanto quella persona sia, chiamiamola così, diciamo così, borderline, e rischi di sconfinare tipicamente nel monologo, in qualcosa, cioè che è privo di mediazione narrativa, che non è più, non manifesta la media, sì. Inoltre si dovrebbe avere presente, questo è stato detto chiaramente già ieri, la differenza strutturale tra un presente drammatico, diciamo così quello che un tempo chiamavamo presente storico, e un presente senso forte narrativo, che innerva un'intera opera dall'inizio alla fine. come ieri Castellana ha detto cose importanti. Tanto peggio quanto entra in gioco un presente, solitamente considerato deittico, fortemente deittico, intrinsicamente deittico, come quello riportivo. Anche di questo abbiamo parlato ieri, il presente delle telecronache, per intenderci, il presente riportivo. In ogni caso potremmo affermare, perlomeno dagli anni cinquanta del secolo scorso, oggi si è imposta, come dire, quasi a livello di senso comune, una maniera di raccontare al presente, che ha ripreso alcune caratteristiche del classico racconto al passato, appunto, se stiamo un po' a questo schema proposto da Fluderlick. Ora, la mia ricerca ha come oggetto l'eventuale produttività, nella poesia italiana recente e recentissima, di un simile sistema verbale. Ovviamente, questa indagine, andiamo avanti con la teoria, questa indagine, questo esperimento, ha un minimo di senso, solo se attivo, una piena consapevolezza teorica circolusa dei tempi verbali in poesia, naturalmente. Anche qui sono costretto a semplificare al massimo una situazione, per fortuna, più semplice, o forse più arretrata concettualmente, di quella narrativa. Potremmo dire, tenendo presente soprattutto le posizioni di Arnaldo Soldani, integrate con certe idee di Jonathan Kaller, che il presente deitico è il tempo della poesia. A mio avviso, Soldani, che non per caso è un bravissimo, studioso di Petrarca, coglie nel segno quando afferma che, cito, nella lirica, la voce dell'io parla simultaneamente agli eventi che sta rappresentando. Cioè, quando io leggo il novantesimo sonetto del canzoniere, erano i capei d'oro, a Laura, erano i capei d'oro, a Laura, sparsi, Petrarca, modura così, un imperfetto continuo che prelude a un'azione remota, auristica, e forse persino ingressiva, di subito Arsi, quando leggiamo questo virgolette abbondanti raccontino, dico, lo dobbiamo riportare sempre al presente dell'io poetante. Il racconto non può istituzionalmente, diciamo così, acquisire piena autonomia. Il suo riferimento temporale in poesia è al tempo presente del locutore al momento dell'enunciazione e aggiungo subito al presente del lettore se seguiamo le indicazioni di Caller, secondo il quale la poesia non racconta ma chiede l'attualizzazione rituale delle sue forme e dei suoi contenuti. In quella dimensione che lo studioso definisce epidittica. Non dimentichiamo le osservazioni appunto di Caller intorno alla propensione della poesia inglese per un presente non progressivo, quasi che i verbi inglesi in quel contesto in un contesto della poesia siano costretti a seguire le norme riguardanti i verbi come per esempio gli stativi che sono privi di forma progressiva. Insomma William Butler Yates scrive walk through the long school room questioning e non scrive I am walking non scrive I'm walking ma scrive I walk questa è un'osservazione una citazione è un esempio dello stesso Caller evidentemente qui la spettualità abituale prevale su quella progressiva il presente della poesia insiste appunto su qualcosa che si ripete si ritualizza tutto ciò va fermato anche per sfatare e ci torneremo a certe generalizzazioni intorno all'esibizione dell'io poetico intorno agli usi del presente in poesia che sono suscettibili di semplificazioni ed equivoci sarebbe pura follia se qualcuno davanti a San Martino di Carducci si azzardasse a un'analisi stritto senso narrativa sfiderò personalmente a duello chi vi si azzardasse anche se in dubbio l'aspettualità imperfettiva e progressivo continua di quei presenti pioviginando sale urla e biancheggia il mare ed è nodale la prospettivizzazione garantita dal personaggio del cacciatore insomma da una focalizzazione interna ma questo uso dei presenti ha una codificazione lirica talmente salda da accomunare poniamo tanta poesia europea moderna le forme della lirica cinese e giapponese classica dove poesiole di questo tipo sono assolutamente normale insomma l'opposizione è chiara la tese esenziale non deissi del passato di certi tipi di presente sta dalla parte della narrativa la peculiarissima deissi peculiarissima deissi al presente sta dalla parte della poesia in grado anche di presentificare i tempi passati ora il mio esperimento critico consisteva finalmente arriviamo all'esperimento nel verificare se negli ultimi cinquant'anni della poesia italiana l'uso del presente epico e delle sue molte metamorfosi narrative avesse modificato i presenti poetici spostandoli in una direzione più accentuatamente narrativa o comunque determinando modificazioni diciamo aspettuali degne di nota per fare ciò ho preso in considerazione adesso dividiamo un corpus di undici raccolte poetiche del periodo 65-71 poi sono andato cinquant'anni dopo e ho preso queste undici raccolte adesso potete guardare preciso che c'è anche un giudizio estetico positivo rispetto agli ultimi sei anni quindi lo dico fin da ora sapete cosa vuol dire fare un canone bene ho integrato con questo sfondo di opere poetico-narrative adesso non c'è bisogno che vi stia spiegare l'importanza oddio magari forse su Balestrini Belcauto qualcuno avrebbe dei dubbi però l'idea di un racconto di un'opera narrativa di un poeta d'avanguardia di ricerca come lo volete dire bene purtroppo però il mio si è rivelato essere dico subito un esperimento concepito in modo sbagliato la progressione l'innovazione che mi aspettavo non solo non è verificabile ma potrebbe essere affermato esattamente l'opposto e cioè che la testualità che le testualità attuali manifestano un maggior grado di fedeltà a un modo istituzionale di concepire la poesia propongo un paio di esempi diciamo del periodo 60-70 un testo di Raboni e uno di Sanguinetti Raboni insieme a Sereni come tutti sanno uno dei poeti che più e meglio ha insistito su cortocircuiti presente e passato incardinati su uso su usi dei tempi vagamente contraddittori cioè non pienamente razionali anche per una ragione politico ideologica legata al trauma della guerra mondiale e adesso lo vediamo secondo la critica la poesia che adesso vediamo elementi del paesaggio urbano parla di un evento storico una fucilazione rivissuto al presente difficilissimo spiegare il loop temporale se arrivavi cinque minuti prima c'erano delle cose che ricordi una specie di ellissi in cinque minuti quelle cose sono scomparse pur restando nella tua memoria è bellissimo riflettere su questo loop temporale meno forse trasgressivo è un notissimo sanguinetti quasi ad apertura di pagina rise builder dove abbiamo qualche cosa come sempre in questo sanguinetti siamo di fronte a una congiunzione presente perfetto composto di tipo diaristico con una dominante appunto di compiutezza derivante dal perfetto composto che si estende anche al presente quel mi telefono iniziale suona come un mi ha appena telefonato ma in questo caso il presente con verbo di parola cosa fa tende ad assumere un forte rilievo di simultaneità e ciò è dovuto al fatto normale istituzionale in sanguinetti che l'io si diffrange in una serie di espressioni non mediate discorsi diretti liberi che sono quelle enunciazioni poste fra parentesi che sono se non sbaglio in verde in termini aspettuali accade che la narrazione simultanea riportiva quella che dicevo prima faccia infine premio su quella diaristica come se verso la fine si passasse davvero a questa simultaneità ho fatto il nome di Sereni e qui vabbè abbiamo nel vero anno zero dove ci sarebbe da dire tantissimo anche in termini di mind reading niente non posso parlarne due questioni però vanno ricordate la prima che in passato era stata messa ecco bene in luce qui ho un antecedente autorevole cioè Guido Mazzoni che aveva fatto questa osservazione credo soprattutto per Raboni ma c'è anche nel suo saggio su Sereni questa prima osservazione concerne quel tipo di enunciato in prima persona che di fatto è un monologo cioè è la registrazione del pensiero del poeta secondo una dinamica non lirica ma appunto narrativa ma quante Sachsenhausen in Germania quante case qui non è l'io poetico ma è un piano diverso è il monologo non mediato è un monologo è una voce monologante non mediata dal filtro poetico questa era una proposta che aveva fatto Mazzoni molti anni fa che io condivido pienamente adesso va collegato e il fatto forse ancora più importante il verso 10 no non c'era mai stato in Sachsenhausen che non è altro che un discorso in diretto libro narrated monologue ottimo esempio di preterito epico alla prima persona insomma la seconda osservazione è la gestione aspettuale del verbo del dire allora lo vedete meno male lui disse qualche la stessa persona sotto dei sassoni dice rassicurante e poi abbiamo un altro inserimento mi legge nel pensiero in realtà ovviamente l'abbiamo detto ieri non c'è nulla di trasgressivo come ci ha insegnato sul tempo Marco tutto c'è normale in un genere narrativo come il poema cavalleresco e riosto eccetera eccetera fa un uso abilissimo di questa forma questa alternanza presente perfetto nel passaggio dall'aspettualità auristica a quella compiuta c'è una specie di rallentamento e di avvicinamento evidentemente psicologico dell'azione di dire poi abbiamo un esempio Fortini in realtà ci potrebbe dare esempi a Iosa di questi giochi temporali mescolanze di piani temporali io vi porto questa poesia che è anche unica in fondo quasi unica nella sua produzione è una prosa l'apparizione dove c'è in gioco la tecnica camera eye che è lo sguardo su uno sguardo e quindi è un doppio guardare secondo me in questo consiste la tecnica camera eye con un uso particolare del presente ora simili soluzioni non sono quasi per non riscontrabili nella poesia contemporanea prendiamo ad esempio due poeti di ricerca posso dire a me cari come Marco Giovenale e Simone Menicocci del primo cito questa che vedete tratta dalla sezione altre visioni della raccorta ricordata prima il presente è in senso lato descrittivo le azioni sono prevalentemente durative e si accumulano percezioni interne cioè c'è un personaggio terzo che agisce e patisce insomma l'evento espresso con un perfetto composto più presente quando è finito il rumore la caldaia riposa si impone secondo una scansione temporale tutto sommato prevedibile un soggetto percipiente implicito liopoetico registra alcuni eventi esterni anche figurali montati in modo discontinuo e qui la parola montaggio è un omaggio no nel senso che in fondo la differenza rispetto a Carducci non è tanto la costruzione tutto sommato narrativa del personaggio figlio che qui appare o appunto l'aspettualità compiuta del passato prossimo ma semplicemente la repentinità disordinata dei trapassi da un ambito percettivo all'altro una specie di effetto di montaggio non possiamo perciò definire epico questo presente perché si inserisce di fatto la perfezione in una tradizione impressionistica e lirica e riassorbito dentro il modello lirico Simona Menicocci scrive testi un pochino più ardui ma perché c'è questo suo anche uso dei composti di nomi che si verbalizzano vedete subito questa cenerantola cenerentola cenerantola quindi dei nomi quasi verbalizzati però vedete in ultima analisi dal punto di vista dell'uso dei verbi in senso stretto al dentro dei fenomeni microscopici non troviamo molto di più di quanto visto in giovenale nel soppercettivo presente perfetto composto con un di più di presenti ignomici diciamo onnitemporali e cioè poetici basta vedere il finale stanno zero a zero quindi c'è qualcosa anche di statico in fondo curioso è poi il fatto che l'enunciato che vedete in corsivo simile alle istanze monologiche trasposte di cui abbiamo parlato per Raboni e Sereni sia stato in questo modo cioè attraverso il corsivo graficamente normalizzato in modo direi persino troppo prudente come dire Sereni e Raboni erano più radicali da questo punto lo stesso Sanguinetti in qualche modo anche se ci spostiamo adesso Guido Mazzoni poeta poesie bellissime naturalmente se ci spostiamo sul fonte esplicitamente lirico che quindi è vicino alla tradizione 60-70 che abbiamo ricordato e prendiamo in considerazione per esempio questa prosa di Mazzoni dove sembra esserci una forte narratività però succede che i brevi racconti alla terza persona comportano sì un incremento di narratività ma l'aspettualità prevalente è abituale e i verbi esprimono durata questa poesia straordinaria sotto per chi punti vista anche molto breve può presentare elementi che si avvicinano al nostro discorso però più che uno spostamento diciamo deitico abbiamo uno spostamento gnomico pressoché inevitabile nella direzione di enunciati onitemporali tipici del genere di ricco qui lo vedete bene nel penultimo verso esce il liquido che può davvero essere qualcosa al presente inondetico nella accezione che dico io ma poi c'è è il distacco che è come dire un presente subito poetico diciamo così gnomico che corregge in qualche modo è il distacco sanguigno che corregge in qualche modo la il verbo precedente questo può valere a maggior ragione con poetesse bravissime come l'anedda e franca mancinelli ecco per esempio se guardiamo questo galassie di anedda vabbè qui è chiaramente un imperfetto onirico però non troviamo nessuna come dire complicazione eh di questi perfetti che sono lì in maniera usati in maniera tradizionalmente lirica oserei dire al netto delle molte verifiche che dovrò fare perché il lavoro è immenso con ogni evidenza però il quadro è già piuttosto chiaro chiudo con quelle che sono quella che è anzi l'unica vera eccezione da me rilevata cioè l'uso dei verbi fatto da fiori umberto fiori nel suo poemetto protezione questo è un poemetto narrativo eh e quindi è chiaro che è un piano diverso però adesso lo vedremo messo a confronto con Bertolucci eh allora cosa succede mh eh in lui è normale che su uno sfondo descrittivo realizzato con l'imperfetto e col perfetto composto si definisca una particolare opposizione aspettuale che è questa imperfetto perfetto composto passato prossimo da un lato versus il presente epico qui guardate lo vedete benissimo eh praticamente la prima colonna è dominata da una modalità e quindi l'imperfetto diciamo perfetto composto passato prossimo e poi c'è questo mi volto eh evidentemente questo mi volto corrisponde mi voltai eh è chiaro però siamo è un presente e qui abbiamo addirittura un caso forse ancora più eh più interessante perché avviene con i verbi del dire avviene all'interno di un dialogo avviene in queste didascalie e vedete che a un certo punto nella seconda parte il dialogo con una suora può darsi che abbia un significato religioso si attua un vero cambiamento di prospettiva il passaggio della dalla dissonanza alla consonanza forse non del tutto per caso connesso all'azione di ridere e all'opposizione esserci esserci è attributo divino ci dice appunto Fiori ad esistere è opposizione esserci esistere esistere è un attributo umano quindi il primo è uno stativo permanente il secondo è un continuativo un testo che libera la dissonanza non deittica insomma non del tutto casualmente questa gestione ospettuale è un precedente interessantissimo anche se diverso ma insomma c'è una dinamica contrastiva paragonabile a questa naturalmente alla camera da letto di Bertolucci cito dal libro trentaduesimo il racconto privilegio è un presente tutti quelli che hanno letto la camera da letto sanno che il racconto privilegio è un presente venato di abitualità gnomica e lirica spesso descrittiva il passo che vediamo riguarda il personaggio l'anziana regina regina è il nome di questa donna che è la nonna materna isolata sì nella sua orgogliosa povertà quando entra in scena A che è lui il personaggio il poeta stesso il personaggio di fatto però in realtà di questa storia il presente è un indubbio rilievo non abituale tanto meno progressivo o continuo qui si dovrebbe citare nel dettaglio insomma potete vedere A viene da solo prima col tram cittadino poi a piedi impolverandosi le scarpe uno potrebbe davvero dire A venne da solo prima col tram cittadino poi a piedi impolverandosi con le scarpe no? però cosa cosa succede? il successivo un giorno porto N ristruttura la prospettiva temporale perfetto semplice auristico quasi per definizione introduce una curvatura temporale diversa e si tenga presente che nel momento di Bertolucci di solito queste transizioni riguardano il tempo esterno quello della storia pubblica o estranea delle vicende della famiglia la camera da letto pratica una homo diegesi su cui ci sarebbe da dire moltissimo molto complicata molto ambigua ma evidentemente non siamo lontani dallo sdoppiamento di fiori non è chi non veda e sto arrivando sto concludendo come molti dei risultati trasgressivi anni sessanta settanta siano e forse anche fiori sono stati favoriti dalla presenza di un io molto problematizzato di fratto straniato eccetera eccetera e non invece volontaristicamente annullato salvo poi ritrovarselo fra i piedi vero e proprio ospite in grato come accade in giovenale e minicoce le conclusioni sono molto molto difficili io credo che si dovrebbe fare riferimento a contesto mediale oltre che sociale va da sé in cui si inseriscono i due mondi poetici qui contrapposti il sessantotto che spiega le stratificazioni di cinquant'anni fa è anche un sessantotto molto cinematografico nominato dai suggerimenti della Nouvelle Vague di Godard magari di Pasolini eccetera eccetera negli anni venti del duemila lo sfondo mediale è social la poesia preferisce verticalizzare i propri procedimenti specializzandosi per sopravvivere meglio dentro l'eco chamber in cui si confina per sentirsi sicuro dentro una bolla confortevole la temporalità ibrida è problematica del cinema della narratività del cinema è altra cosa dalla costruzione di una virtualità installativa e blandamente ideologica la la parte cinema si critica la poesia complicandola qui si riposiziona il testo a colpi di operazioni concettuali inevitabilmente metaletterarie non c'è nulla di male se non fosse che come abbiamo visto un ritorno alla tradizione è quasi inevitabile una piccola vendetta del medium poetico e delle sue istituzioni in somma grazie 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 grazie